Ho ritenuto doveroso venire qui, ero in una missione internazionale ad Ancara per rendere omaggio, onore e ringraziamento ai carabinieri del ROS di Palermo, ma a tutta l'arma dei carabinieri e a tutte le forze di polizia. Una giornata bellissima perché chiude una pagina storica del nostro paese, restituendo giustizia e onore a tante vittime di mafia, a tante persone che ci hanno lavorato in questi anni e che non hanno potuto vivere una giornata come questa. Io mi ritengo ministro dell'interno fortunato perché raccolgo questo importante risultato grazie al grande valore dell'arma dei carabinieri e quindi sono grato al comandante generale con lui per tutta l'arma. Spero che questo sia un elemento anche di rassicurazione per i cittadini e un elemento anche pedagogico perché ci sono voluti 30 anni ma la giustizia, anche se con ritardo, prima o poi afferma le sue ragioni.